Massimo Donofri, direttore generale di Ortona, siamo venuti a trovarla per commentare un po' la vigilia dell'ultima giornata di regular season. C'è tanta rabbia, soprattutto per quanto è successo a Cuneo qualche settimana fa. Sì, diciamo che c'è molto dispiacere per il fatto che avevamo girato il campionato in un certo modo, ci eravamo posizionati in classifica in una certa tranquillità e oggettivamente pensavamo di essere nei primi quattro con tranquillità. Purtroppo alcuni risultati ci hanno penalizzato e soprattutto come ha ricordato Cuneo, dove non ci aspettavamo assolutamente di perdere. Adesso Ortona con un piccolo miracolo potrebbe ancora ciuffare il quarto posto, però è chiaro che Prata, vista domenica scorsa ad Ortona, difficilmente può far paura a Cantù. Diciamo che il problema di adesso è che non dipende più solo dai nostri risultati. Noi potremo sicuramente vincere come probabilmente cercheremo di fare e forse anche riusciremo a Roma. Il problema sono le squadre che sono davanti a noi, che dovrebbero entrambe perdere, sia Gioia del Colle che Cantù. Come dicevi, Prata è una squadra discreta, ma sicuramente un Cantù lanciato per il quarto posto. Non so, insomma, quante possibilità di andare a perdere fuori casa. E la stessa gioia che gioca a Castellana Grotte è un risultato che non è così scontato. C'è più rammarico o c'è più anche un po' di rabbia, Don Ofrio? Guarda, è un misto delle due cose. Sicuramente è rammarico perché dopo le difficoltà iniziali ci eravamo veramente ritrovati, avevamo trovato anche il giusto equilibrio che ci aveva consentito di arrivare al risultato del terzo posto. Dopodiché comunque possiamo dire che le situazioni di infortuni che hanno continuato a perdurare un po' ci hanno penalizzato, ma credo che non abbiamo scusanti per la partita di Cuneo. Comunque quella era una partita che andava sicuramente vinta, indipendentemente da tutto.